Ancora furti in sequenza, ancora una zona di Fano presa di mira, dopo il Lido, nella notte tra domenica e lunedì, è toccato alla zona di Cucurano, con tre esercizi commerciali visitati dai ladri. Per l'autofficina Fratelli Giorgini è il secondo furto subito, che oltre al danno materiale, lascia un senso di insicurezza e paura nei componenti dell'azienda e nei residenti. Un'altra visita dei ladri. Sì, noi già ne abbiamo avute diverse in quest'ultimo periodo e questa volta però sono riusciti a portare via delle attrezzature da lavoro, oltre che un po' di nafta dai vari camion dell'azienda. Premetto che noi avevamo già subito un tentato furto nel 2015 e quindi la baracca veniva chiusa tutti i giorni con la vena delle scavature. Siccome la porta era chiusa hanno ben pensato di smontare il tetto e sono entrati dal tetto. C'è la videosorveglianza? Al momento no, non abbiamo niente. Qua è anche abbastanza poco illuminata la zona e quindi no, non ci sentiamo molto sicuri. Poi i furti ultimamente se ne sono ripetuti in continuazione anche nella via di sotto, via del Pietrisco. Lo stesso nel 2015 ci sono stati molti furti, hanno rubato diverse autovetture. Diciamo che il valore si aggira intorno ai 1000-1500 euro, una saldatrice, un motopic, come ripeto il nafta. Furti con pausa pranzo, il caso di dire, perché uno dei locali visitati dai malviventi è stata la trattoria-pizzeria La Vecchia Fornace, proprio sulla Flaminia, dove dopo aver forzato una vetrata hanno fatto una visita nelle celle frigo e banchettato nello spazio esterno del locale con del cibo trovato e delle lattine di bibite. Poi, impossessatisi di un estintore, hanno fatto irruzione nel bar Tabacheria Petit. Qui la storia è andata diversamente. I due, forse tre malviventi, hanno racimolato un bottino consistente, oltre 12.000 euro. La notte tra domenica e lunedì, verso le tre e mezza, il mio socio è stato contattato dalla vigilar, la sorveglianza notturna, avvisandolo che suonava l'allarme del bar. Il mio socio ha risposto di allertare anche i carabinieri, verso le quattro, quindi anche un po' prima, quattro meno un quarto, come è arrivato al bar, c'era già la vigilanza e i carabinieri e purtroppo si sono accorti che erano entrati i ladri ed erano già usciti con un buon bottino. Hanno portato via sigarette, praticamente tutte, tranne qualche pacchetto di sigarette che è caduto per terra nel buttarlo dentro i sacchi, grati vinci che erano appesi qui, questi sono quelli che sono rimasti, dei soldi contanti che io avevo lasciato la settimana precedente, che non volevo portarli a casa perché non c'era nessuno. Pensavo che erano più assicuri qui dentro, invece, insomma, si parla di 10, 12, 14 mila euro circa. È una stima questa, è difficile dirlo di preciso. Da dove sono entrati? Da quella porta lì, che è la porta secondaria. Hanno tagliato sia l'inferriata in ferro con dei tronchesi e poi la porta vetro l'hanno sfondata prima con un estintore, che non sono riusciti, perché l'estintore l'avremmo trovato dentro, ma è stato trovato fuori. Dopo non so se gli hanno dato dei calci, hanno usato altre cose, sono entrati da quella porta lì. Sono stati anche ripresi, perché qui ci sono delle telecamere, due, le immagini sono già dai carabinieri, in tutto il filmato dura dai 3 minuti e mezzo ai 4 minuti e mezzo.